In collaborazione con Rolex, Osis Technology, Toyo, Adrenaline Addicted. Cari amici degli spettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni in seconda parte della decima puntata di S4, il Toll Show di Sportador TV. Decima puntata delle 20 previste per la settima edizione di questo Toll Show dove nella nostra bellissima nave di Milano ci vengono a trovare quattro amici per parlare delle grandi novità di questa estate 2018. Nelle prime nove puntate abbiamo parlato di neve, montagne e sport invernali. Ora inizia il ciclo dedicato alla nautica, al mare, alla motonautica, al turismo e alle crociere. Con me la bellissima Benedetta che è un appassionato di nautica, seguirà alcune nostre puntate dedicate al mondo della nautica. Benedetta, hai già capito qualcosa come funziona la nautica? Sto cominciando ad orientarmi un pochino. Cosa vuoi chiedere al dottor Figari? Al dottor Figari volevo chiedere che ci parlasse del SITEC della prossima settimana. Sì, diciamo che mi piace parlare di tutto ciò che si ragiona per aumentare l'attrattività dell'evento. Quindi i premi, per esempio, quest'anno abbiamo istituito il premio imprenditore dell'anno perché, secondo me, bisogna anche sottolineare tutti i cantieri, o almeno quelli che fanno sviluppo. E quindi fanno sviluppo sulla filiera e sul territorio. Quindi ci sarà questo premio che, secondo me, è molto importante, oltre che i nostri premi storici, dal Mida al Quality Technology, al Quality Tech Design, al premio per i nostri più fedeli espositori. Insomma, crediamo che i premi siano un qualcosa per sottolineare l'impegno delle aziende in questo momento e soprattutto negli anni precedenti dove la crisi ha morso parecchio. L'altra cosa importante, che non mi dispiace perché secondo me è stata un'ottima idea, è il Problem Solving Time. Cioè abbiamo stimolato le nostre aziende a portare i tecnici che possano rispondere direttamente ai cantieri o ai tecnici dei cantieri per tutti i problemi che si possono porre nella realizzazione delle proprie imbarcazioni. Quindi questo è importante perché secondo me una fiera non deve essere solo e esclusivamente un momento di business, ma deve essere anche un momento di evoluzione e di formazione. E credo che questo sia molto importante. Ricordiamo, SITEC, prossima settimana, 5 da giovedì al 7, al sabato, tre giorni da Carrara Fiere, giusto? Sì, abbiamo provato e mettiamo il sabato perché è un momento di forte lavoro per tutte le nostre aziende che aspettiamo in visita, perché parte la stagione, quindi il refitting, fine del refitting, produzione, eccetera. E quindi pensiamo che aver inserito il sabato possa essere un motivo di ulteriore visitazione. Poi diciamo la prima fiera della stagione che lancia un po', è arrivato un po' di sole, arriva il caldo, e ora c'è voglia di preparare la barca, quindi tanti appassionati vengono. Certo, tutti hanno voglia in questo momento di cominciare a uscire, anche se devo essere sincero, insomma la primavera non mi sembra ancora iniziata, è iniziata sul calendario, ma non mi fa ancora. Sì, sì, questo vento freddo siberiano che ha tempestato tutto marzo e che quindi vedremo un po' come arriverà. Speriamo che arrivi l'alta pressione col bel tempo. Il bel tempo arriva anche da Suzuki, grande novità. Allora, hai detto nella prima parte i grandi numeri di Suzuki, grande record di vendite nel primo trimestre, il record di vendite per Suzuki Marine nel 2017, oltre 110 mila motori fatti, fabbricati e venduti. Come sarà, Imma, il 2018? Nel 2018 noi ci aspettiamo sicuramente di crescere ancora e come ho detto prima i risultati già si vedono. Avremo delle novità che mostreremo a Genova, proprio seguendo il concetto del miglioramento continuo dei nostri prodotti per ogni fascia di mercato. Quindi vedremo due nuovi motori a Genova che andranno all'interno della gamma già completa, che come avevamo detto parte dal 2,5 fino al 350. Ecco, e quanti motori avete? Qui vediamo tutta la produzione, partite dal 2 cavalli fino al 350 cavalli. Sì, partiamo dal 2 cavalli e praticamente riusciamo a coprire qualsiasi tipo di esigenze e necessità sul mercato, dal di porto alla pesca, ai motori per i tender, ai motori per la vela, insomma, siamo un'ottima proposta per il mercato. Per il mondo dei motori in genere, perché siete lì nella produzione dei motori marini, ma delle due ruote, fate il MotoGP, poi le MotoSuzuki, insomma, le conosciamo tutti, e poi le macchine. Nelle nostre puntate invernali abbiamo sempre parlato della grande produzione che fa Suzuki nel mondo della montagna, dell'outdoor del 4x4, che poi con l'amico Luca parleremo anche di questa fiera che fa una Carrara. Allora, sta arrivando la primavera, bisogna un po' fare il fitting, il refitting delle imbarcazioni. Il refitting in realtà si fa prima della primavera, perché giusto appunto l'anno scorso ho seguito proprio un refitting di un 100 piedi, di uno slup di 100 piedi per un central agent greco, che però aveva una base in Italia. I refitting normalmente vengono, diciamo così, ultimati alla soglia della primavera, proprio per poter utilizzare la barca, come dicevamo prima, ai nuovi sempre di meno. Naturalmente ci sono poi le barche con equipaggio, tipo questa di cui ti ho appena accennato, che chiaramente hanno poi un excursus completamente diverso, perché poi è l'equipaggio in realtà, che si gode di più la barca, perché poi la sposta da un porto all'altro, seguendo un po' le indicazioni all'armatore. Ma cosa si potrebbe fare per allargare? Si parla tanto di nautica, il 40% delle barche che navigano sono fatte in Italia, 8000 km di costo e poi posti barca, come si può fare? Dall'alto della tua esperienza... Dall'alto della mia esperienza succede questo, innanzitutto bisogna un pochettino incentivare l'utilizzo del mezzo senza approfittarsi, nel senso che se tu, faccio un esempio pratico, se tu vai a comprare una vite d'acciaio dal ferramenta, dico sparo una cifra X, la paghi 1 euro, se la vai a comprare da uno shift channel la paghi 5 euro, naturalmente ho esagerato le cifre, ma per farti capire che cosa significa questo. Quindi è chiaro che, soprattutto nel basso, ecco perché ti facevo l'esempio prima dei due fratelli navigatori col 21 piedi, che poi un 6 metri e mezzo, ecco se uno riuscisse a capire che anche con una spesa ridotta, limitata, contenuta e con un'esperienza, tutto sommato, anche quella limitata, si riesce ad andare per mare, allora la gente ci andrebbe di più. Però non c'è questo messaggio. Come ha fatto Monti nel 2009. Ma non viene mandato il messaggio, Floriano, non viene mandato il messaggio. Il messaggio è, barca uguale ricco, uguale persecuzione. E questo è stato un po' il campanello, il tarlo che c'è stato sempre nella testa di tutti gli utenti, che chiaramente avevano, soprattutto prima, tanta paura di uscire, per essere poi perseguitati, tra virgolette, che hanno portato poi le barche in Croazia, in Spagna, Malta, in Tunisia e quant'altro. Però ti ripeto, cosa si potrebbe fare allora? Informare di più, tutto lì. Ebbene, noi cerchiamo di fare, a questo talk show, cerchiamo di far capire quanto è importante il mare, quanto è importante andare per mare ed amare il mare. Ora ci sono tante fondazioni per il recupero del mare, la storia della plastica, che non è di biodegradabile, che rovina sempre di più il nostro mare. Ma il mare è importante, Sea Future, il futuro del mare è verso Sea Future, che è questa fiera che abbiamo già presentato nella prima parte, che continuiamo a promuovere, 19-23 di giugno alla Spezia. E con la dottoressa Pagni, quali sono i momenti di aggregazione per il mare, per il nostro mare che fate lì alla Spezia, in questa fiera? Sì, l'ultima cosa che hai detto, però volevo un attimo fare un punto su questo. Sulla plastica abbiamo visto ultimamente libri, fotografie, un oceano di plastica. Ecco, volevo dire che noi siamo il primo salone, ci siamo impegnati a togliere la plastica dal tutto il salone. Quindi Zero Plastic sarà il nostro motto. E abbiamo dedicato una giornata, il venerdì, il 22 esattamente, a parlare solo della sostenibilità ambientale. Quindi il mare proprio come bene da conservare e tutelare. In quella giornata avremo delle conferenze che si occuperanno proprio di questo, della plastica, degli oggetti biodegradabili, di come debba essere importante la sostituzione delle bottiglie di plastica, ad esempio in tutte le fiere, che abbiamo visto anche adesso, invece da quest'anno non ci saranno più. Quindi avremo presenti delle ONG, avremo presente Mare Vivo, ci sarà Sea Shepherd, ci saranno tutta una serie di attori che da sempre si occupano di male, di tutela della flora e della fauna. Perché ricordiamo, quando tu butti la plastica in mare, non è biodegradabile, si divide in migliaia di particelle che poi mangiano i pesi. Esatto, che poi alla fine mangiamo noi, questo è il problema vero. Un problema importante che quindi noi cerchiamo di sensibilizzare. Grazie alla dottoressa Pagni. Ci stai capendo qualcosa, Benedetta? Cosa ne pensi? Il tuo amore per il mare? Tu sei di Verona? Io sono di Verona. Quindi il lago di Garda? Eh sì, però ho una casetta a chioggia. Ah, ecco, quindi ti piace il mare. Adoro il mare. A noi ci piace anche andare fuori strada, no? Voi oltre al SITEC fate anche il 4x4 Fest, che è questa fiera, prego la regina di far andare le immagini, è un'altra fiera importante che voi fate a Carrara. Avete, prossima settimana, il 5-7, il SITEC, la fiera del Marmo quando è? E poi a metà ottobre il 4x4 Fest. Quante domande tu hai assieme? Allora, vediamo se riesco a rispondere bene. A giugno ci sarà questo evento sul Marmo molto importante, che è la prima edizione di Carrara II, che sarà dal 2 al 9 giugno, e lì veramente faremo un focus importante sul Marmo, ma anche sull'identità territoriale del Marmo di Carrara. Mentre invece le immagini che si vedono sono di 4x4, che è la prima fiera europea sulla trazione integrale. Gli amici di Suzuki, ormai sono i nostri partner, direi quasi da sempre, senza quasi, direi che siete proprio da sempre. Da prima edizione. Esatto. Ed è estremamente spettacolare. Parliamo di 40.000 visitatori, parliamo di entrare. Ecco, questa è una fiera che a me piace perché come format non ha solo l'esposizione, ha quello di entrare veramente nel mondo del 4x4, quindi con test drive, quindi con la possibilità di uscire fuori e andare a visitare le nostre splendide montagne vicino a Spezia, che è così stata tanto decantata, beh direi che Carrara non manca come manca. Le vostre cave sono uniche, dai. Esatto, sono uniche, anche perché sennò poi quando torno a casa, visto che anch'io sono genovese, poi... Non sei genovese, sei di camogli, sei di camogli, ricordiamo. Effettivamente non sono genovese, sono di camogli. Però diciamo che 4x4 è veramente un'esperienza unica all'interno della fiera. Hanno provato a imitarci con scarsi risultati, fortunatamente, e mi piace veramente immaginare che anche quest'anno ci saranno tante persone nuove che si avvicineranno al mondo del 4x4 anche grazie alla nostra manifestazione. Un mondo 4x4 che è il regno di Suzuki. Tu sei responsabile della parte marina, ma quando si parla di Suzuki, possiamo dire che è il capostipic del mondo del fuoristrada, del 4x4. Tanti SUV, ma voi avete una cognizione ben maggiore, più ampia, del fuoristrada e delle quattro rotte motrici. Beh, insomma, Suzuki sicuramente è leader anche nel 4x4. Ha oltre 40 anni di esperienza, un'esperienza che è stata una continua evoluzione nel sistema del 4x4. E addirittura, se posso fare un link al mondo marino, possiamo dire che il 350, con la sua doppia elica contro rotante, sfrutta un po' un sistema come fosse una trazione integrale o un pneumatico slick su un asfalto. Quindi le commissioni tra i vari settori sono sicuramente evidenti e portano poi, insomma, ovviamente a dare un prodotto al mercato di tutto rispetto. È parlato di mercato, ma cosa si può fare? Abbiamo parlato di nautica in generale. Voi fate i motori, c'è l'obbligo di patente, ma voi avete fatto dei motori che si possono usare, che hanno delle ottime prestazioni anche senza patente. E ci possiamo collegare a quello che diceva Eddie sul fatto di far inventare la nautica e il mare per tutti. Guarda, in effetti, mentre Eddie prima parlava, stavo pensando proprio a un'avventura che tu conosci, che abbiamo sposato in pieno, che è stata quella di circunnavigare l'Italia con un gommoncino e un motore 40. e l'obiettivo era proprio quello di far vedere alla gente che tu puoi andare per mare anche senza patente, spendendo veramente poco. E puoi soprattutto vedere il mare dal mare, quindi allontanarti dalla riva, fare il bagno magari in un posto in cui non c'è l'affollamento. E questo è un messaggio importante che noi, insomma, condividiamo e cerchiamo sempre anche nelle nostre promozioni. In effetti, se vogliamo, abbiamo cercato di fare un grande sforzo per il motore, per il nostro senza patente, il DF40, proprio per cercare di avvicinare il più possibile la gente alla nautica e soprattutto i giovani. Soprattutto i giovani, avete fatto l'anno scorso, lo ricordiamo perché l'ha accennato, una manifestazione che ha avuto a cuore il Giro d'Italia, il Rai, il Giro dell'Italia, a partenza da Genova, dalla Fiera di Genova e arrivo a Pavia, circunnavigando tutta l'Italia con un motore, un gommoncino piccolo di 4 metri, con uno zar, un mini-zara. Adesso, invece, la prossima, diciamo, esperienza che faranno gli amici del Club dei Gommoni di Milano con il presidente Virginio Gandini, che salutiamo, sarà Genova, Gibilterra, Genova. Quindi costeggiando tutta la parte della riviera Ligure di Ponente, tutta la Francia, fino in Spagna, Gibilterra, e sempre con lo stesso gommone e lo stesso motore. Quindi questo, ovviamente, credo che sottolini l'affidabilità in modo molto deciso, ma fa capire proprio come ti puoi veramente divertire, non dovendo fare troppi sforzi economici, e comunque godendoti il mare, soprattutto. Quanto è importante godersi il mare, Edi? E te lo sei goduto, uno che ha fatto 250.000 amici in barca a vela, al mare... Sì, sì, me lo sono goduto perché l'ho sempre amato. Io, se sai, sono nato a Bilbao, nel nord della Spagna, sono cresciuto alle Canarie, quindi ho imparato ad andare in barca là. Era un po' come quello che va a scuola... Ma come sei finito a Roma? Sono finito a Roma perché mio padre era diplomatico, e quindi finita quell'esperienza lì, ho fatto, sono arrivato a Roma intorno ai 15 anni, il tempo di fare l'istituto nautico lì, e rimbarcarmi su una nave da crociera, come ufficiale di coperta, scusa, e poi cominciare da capo tutta la mia attività di vela. Ma mi rifaccio a quello che dice Imma, che viene al discorso mio, cioè questa è la dimostrazione pratica che se c'è la volontà, soprattutto delle aziende, come ha fatto Suzuki e come ha fatto la mia ex azienda per la quale lavoravo prima, si può veramente spingere le persone a capire che andare per mare si può fare anche con una spesa limitata, senza essere in abbappi, ecco, usiamo questo termine. Ecco, quali sono i consigli che dà gli amici telespettatori che vogliono avvicinarsi al mondo della nautica? Queste che vediamo sono immagini spettacolari, questa è la Sidene Oba, le regate... Sì, questi sono un po' la formula 1 del mare, no, ma quindi esula un po' dal discorso che facevamo prima. Cioè, io mi ricordo sempre, ho fatto otto attraversare Atlantica, Atlantica, la prima volta che fece l'attraversare Atlantica in mezzo a tante barche blasonate, c'era una barca di un ragazzo francese che si era fatta in giardino, erano lui e il suo cane. E questo è arrivato dalla Francia, mi sembra da Nantes, non mi ricordo ben, fino a Saint-Lucie, quindi ai Caraibi, navigando da solo lui e il cane, con una barca che aveva fatto in giardino, spendendo, penso... I francesi hanno un'altra metà di tazza. Ecco perché noi dobbiamo un po' guardare, no? Alle persone che hanno più esperienza, più voglia e soprattutto più passione, senza star di tanto a guardare alla... diciamo così, alle raffinatezze da banchina. Ecco, poi queste sono anche barche tanto raffinate, quelle erano proprio l'immagine dell'ultima, Sidene Oba, la regata che da Sidene va fino in Tasmania, Oba, 600 miglia. Dove si prendono tantissime palade, come diciamo, con i 40 ruggini, i 50 urlanti, guardate che planate bellissime. Ma quanto è importante una fiera, come fate voi alla Spezza, Sea Future, per aumentare, allargare l'amore per il mare. Adesso non c'è nemmeno più, diciamo, l'obbligo di fare il militare ai ragazzi. Una volta uno deve andare in marina, per forza deve andare in barca e amare il mare. Adesso non c'è nemmeno più l'obbligo di leva. Ma diciamo che noi, per ritornare a questa diattriba con Carrara, noi alla Spezza abbiamo tutti il mare, siamo nati, cresciuti lì, quindi facciamo di tutto per rientrarlo sempre più al centro della nostra economia. A parte le battute, il mare, abbiamo detto tutto, abbiamo 8 km di coste, è il centro dell'economia, non solo della Spezia, ma, devo dire, della Liguria, e è importantissimo per il nostro sistema paese. All'interno di Sea Future abbiamo organizzato delle conferenze, come ho avuto modo di dire prima, di carattere anche più economico, politico, a parte i seminari molto tecnici. Una è organizzata insieme, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, si parlerà di intermodalità e di corridoi europei. Un'altra conferenza organizzata, in collaborazione con la Marina Militare, tratterà dei temi di sicurezza di mare e cyber defense. Abbiamo poi quella sulla tutela degli ambienti marini. Abbiamo una conferenza, invece, che tratterà di industria proprio della difesa, vista come l'investimento della ricerca, la ricerca sui temi della difesa, che poi va sempre a impattare sull'economia tutta tecnologica. Una cosa importante è il premio internazionale sull'economia del mare, che verrà dato a un imprenditore armatore quest'anno. Un'altra cosa molto importante sono i giovani, come abbiamo avuto modo di dire. Noi premiamo, attraverso la raccolta di tesi di laurea e dei lavori dei ragazzi delle superiori, le prime tre tesi che un comitato riterrà importanti. Il primo premio sarà un master all'università in Belgio. Quindi stiamo cercando veramente di rendere i giovani e la formazione importanti. Un'altra cosa che rappresenta un momento di aggregazione, un momento nuovo, è la regatta, la prima edizione della regatta velica, che si farà proprio per tornare il sabato mattina. Avremo questa regatta dedicata non solo a tutti, aperta a tutti, ma anche a chi è portatore di disabilità. Diversamente abili. Esatto, See Future is here for everybody. Questo è il motto, è la regatta a 5 terre. Is here for everybody, è qui per tutti, giusto? Esatto, per tutti. Ecco, siamo in chiusura, grazie dottoressa Pagni. Hai capito qualcosa? È stato chiaro il messaggio? Il messaggio chiarissimo. Il messaggio chiarissimo. Quindi siamo in chiusura. Adesso, prima di fare i saluti, l'ultimo invito. Allora, 5-7 di aprile, Sitte Cacarrara, metà ottobre, 4x4 Fest. Esatto. Maggiori informazioni, avete un sito? cararafiere.it? Naturalmente, Sittec.it e 4x4 Fest. E poi c'è anche Coppode, che è la fiera all'incontro. All'interno di Sittec. E quindi, appuntamenti, cari amici dell'espeditore, segnati questi due importanti appuntamenti, il Sittec e il 4x4 Fest a Carrara, prossima settimana, metà ottobre. Gli appuntamenti in clu della stagione per Suzuki, quali sono? Nella divisione marine, sicuramente il prossimo appuntamento istituzionale sarà Genova. Genova a fine settembre, oltre a questo ride, Genova-Gibilterra con il Club del Gommone, come Suzuki, è in prima fila. Eddie, hai presentato un bel messaggio, adesso qual è la tua scelta lavorativa? La mia scelta lavorativa adesso è, da qualche mese, faccio parte del team della Starlight Italia, che è una delle eccellenze italiane, anzi, delle napoletane, perché a Napoli si occupa di visori per la navigazione in grande difficoltà di visibilità. Starlight, quindi luce delle stelle, maggiore delle informazioni. www.starlightitalia.com E invece, dottoressa Pagna, la Spezia, 19-23 di giugno? Di giugno, Sea Future, il mare a 360 gradi, il mare per tutti, un'occasione di incontro, di crescita, di parlare di industria, di formazione, i giovani, enti di ricerca, università, vi aspetto tutti lì. Quali sono gli appuntamenti, clu da non perdere, per gli amici della nautica, Benny? Saranno le prossime puntate che vengono presentate. Allora, prossima settimana, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Benny, grazie al dottor Luca Figari, Immacolata Moretta, Eddie Padiglione, e la dottoressa Cristiana Pagni per essere venuti qui. Abbiamo iniziato la stagione Marina 2018, la prossima settimana parleremo di motonautica, con le gare più importanti della stagione, verrà il presidente e tutti i maggiori piloti di questa meravigliosa disciplina, grazie a voi che ci avete seguito, grazie alla regia e tutto lo studio che ci ha supportato in questa puntata di S4, decima puntata, noi siamo la settimana prossima, se ne ho la stessa frequenza, dovete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito sportador.tv. Ciao, e arrivederci la prossima settimana a Floriano Moboni. Ciao Benny. Ciao ragazzi. Questo orologio ha visto momenti che svaniscono in un attimo e momenti che restano impressi per sempre. Ha visto le peggiori condizioni e le migliori prestazioni. Ma solo a posteriori ci si rende conto che proprio in quei momenti si stava scrivendo la storia della vela. Non segna solo l'ora, segna la storia. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Sabice. Fatti di sport. Toyo. Adrenaline Addicted. Dal 19 al 23 giugno la Spezia ospita la sesta edizione di Sea Future. Un evento internazionale con i più importanti operatori dell'industria navale, della nautica e della difesa. Cinque giorni di eventi, 9.000 metri quadri di spazio espositivo, 30 marine militari estere presenti, 300 espositori, 1.000 B2B. Un'opportunità di business unica in Italia. Dal 19 al 23 giugno nell'arsenale della Marina Militare Italiana alla Spezia. In collaborazione con Rolex. Suzuki. Toyo. Adrenaline Addicted. GFN Gibellato.